Grida di gioia di fronte alle immagini degli insorti nel cuore di Tripoli. Siamo a Benghazi, feudo dei ribelli nell'est della Libia. In decine di migliaia hanno invaso la città per celebrare la fine del regime di Gheddafi. Questa è una benedizione divina, il sangue non è stato versato in vano. È una benedizione di Dio, Dio è grande. Questo è il momento storico che abbiamo tanto atteso. È la consolazione che offriamo ai nostri martiri. È un giorno di gioia, il giorno in cui ricordiamo i nostri martiri. Scene di giubilo anche a misurata, la terza città libica, anch'essa già controllata dai ribelli dopo la fine del lungo assedio, quasi due mesi imposto dalle forze governative. Tempi che ormai sembrano lontanissimi. Sì, 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 sì.